17 giugno 2020 oggi mercoledì il 20 la fa da padrone perché il nostro voto si chiama millennium bug e sono 20 minuti unwrap con 20 deadlift 20 box jump 20 floor press e 20 toes to bar pesi e scalature sulla grafica è tutto per oggi ci vediamo domani buona giornata